Tu sei bravissimo con la bici da cross e quindi ricreerò le stesse condizioni di quando impari le acrobazie solo che stavolta imparerai casi più importanti della Corte Suprema Quindi invece che fare il ciclista devo fare il giurista? Arrivo prima! Ok, adesso senti il vento sulla faccia Pedala, pedala Quale sentenza ha decretato il diritto ad un avvocato? Non lo so Hai presente quando guidi la bicicletta in mezzo al bosco? Oh, guarda, c'è un corvo! Io non vado in vicino al bosco quindi smettila di lanciare schifezze Va bene Quale sentenza ha decretato il diritto ad un avvocato? Ci sei stata la mia gara di cross Non hai visto che non c'erano rame? Ero impegnata a inviare messaggini Smettila di fare versi di animali Forza, quale sentenza ha decretato il diritto ad un avvocato? Gideon contro Smettila di lanciarmi roba addosso e sganciami la bicicletta Non stai rendendo divertente imparare Stai rendendo orribile andare in bici Fu a dentro Ma sei matto? È saputo e risaputo che i deltaplani hanno la precedenza dentro i cortili Gideon contro un Wayne Wright Sento che cominci a mettere in dubbio i miei metodi E la sanità mentale Piro, ci ho pensato su e ho capito che a te piace la bici da cross perché ti diverti Scordatelo, non mi fido più di te, Avery Non lo faccio Dovrai solo imparare i casi della Corte Suprema giocando al tuo spettacolo televisivo preferito Scordatelo Paperare? Allora, ho sistemato il salotto in modo da riprodurre tutti gli ostacoli che si trovano in papirare È solo un po' di robaccia che hai preso in garage Che? Per magia si trasformerà Basta usare il potere e l'immaginazione Puoi fingere che sia così Allora è completamente diverso, iniziamo Bene, salirai su ciascun ostacolo e potrei muoverti solo se la risposta sarà corretta Iniziamo con la vasca della schioma da barba per pelli sensibili Dire pelli sensibili fa meno paura, così non ti preoccupi per la tua pelle sensibile Iniziamo Il caso della Corte Suprema che ha decretato il diritto del Congresso di approvare le leggi necessarie è giusto Gibbon contro Ogden Sbagliato Allora bionde contro more Sbagliato sotto vari punti di vista Locknet contro New York Lo Stato non può interferire col diritto del datore di lavoro a contrattare col dipendente Corretto Prossima sfida Ehi Io non l'ho ancora picchiato Tu mi avevi detto che potevo picchiarlo Ok, ok, basta così Questo non è papirare Questa è una squallida imitazione di papirare Questo è sparagliare È strapazzare Questo è Frena, frena, asino Non ti piace, che? Tra un po' dirai che non ti piace Frena, frena, asino Vieni la terra Talk with a blog A Disney Channel